Non si placa il clima di intimidazione nei confronti di amministratori pubblici. La violenza dei criminali ha preso di mira questa volta il sindaco di Peschici, Franco Tavaglione. La notte scorsa i gnoti hanno piazzato e fatto saltare un ordigno esplosivo nei pressi dell'abitazione del primo cittadino, che è anche presidente della comunità del Parco del Gargano. I carabinieri di Vico del Gargano, che stanno indagando sull'attentato, hanno ritrovato anche un proiettile calibro 12, che nel codice criminale è una inequivocabile minaccia intimidatoria nei confronti del sindaco. A Tavaglione sono giunti messaggi di solidarietà da Stefano Pecorella, presidente del Lente Parco Nazionale del Gargano, e da tutti i sindaci e gli amministratori dell'intera provincia.